Il Brindisi prova a lasciare alle spalle questa difficile annata con la matematica retrocessione che potrebbe già arrivare nella sfida contro la Virtus Franca Villa in programma sabato sera alle 20.45 presso lo stadio Franco Panuzzi. La formazione bianca-azzurra si vuole concentrare esclusivamente su questa partita cercando di trovare la prima vittoria nelle mura amiche di questa stagione e cercare comunque di dare dignità a questo finale di campionato. Il tecnico bianco-azzurro Nicola Losacco dopo la rifinitura fa i conti con le assenze di recuperi. Tornerà sicuramente a disposizione il difensore Bonin fermato per una giornata dal giudice sportivo e assente nella sfida della scorsa settimana contro il Taranto potrebbero recuperare anche Gorzeleschi e Petrucci. In dubbio invece la possibilità di vedere in campo Bonino trotta e vantaggiato il Brindisi comunque cercherà di dare il massimo sul rettangolo di gioco per concludere il campionato con la massima dignità possibile anche in caso di retrocessione.